Ragazzi siamo con Dardas Grande Performance Dario come va, come va, come va Hai prodotto praticamente tutti Eh sì Com'è produrre per gli altri? Bello, bello È il mio lavoro Spero di farti sempre meno e meglio Qualche cosa della performance di stasera, Duality Hai accorciato un po' l'intro, la prima parte? Sì, sì, l'ho fatto in formato bestia Al dato che dovevo suonare un'ora Quindi è andata così L'ho accorciato un po' Però è stato molto bello Bel pubblico Che importanza ha per te il numero 7? È importante perché è legato al mio primo disco Al mio debutto, diciamo Senti, come sta andando la tournée in Italia? Bellissima, è finita Oggi era l'ultima data Se riparti a dicembre in teatro vi aspetto E in Spagna a Vic? Il 15 Perfetto, per cui invitiamo tutti i ragazzi di Radio in Fiore Ci fai un saluto per Radio in Fiore Che è questa radio qua Un saluto a Radio in Fiore e a tutti i ragazzi Grazie 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 a tutti i ragazzi